Cari fratelli e sorelle, buona giornata e buona settimana. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amico. Ringraziamo il Signore per il dono del nuovo giorno e lo lodiamo con le parole del Salmo responsoriale della Messa di oggi. Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, oh Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio, manda la tua luce e la tua verità. Siano esse a guidarmi. Mi conducano alla tua santa montagna, alla tua dimora. Verrò all'altare di Dio. A Dio mia gioiosa esultanza. A te canterò sulla cetra. Dio, Dio mio. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amo. Sabato scorso ci siamo soffermati a riflettere sul titolo Mariano della Misericordia, facendo riferimento all'antica icona che è conservata ad Ascoli Satriani. Sono stato proprio il primo maggio, come è tradizione, a celebrare ad Ascoli. Ora l'immagine è nella concattedrale. Prima di proseguire oltre, ho deciso di soffermarmi ancora su questo titolo, facendo riferimento alla icona classica della Madonna della Misericordia, che adesso vedremo. E' la Madonna della Misericordia di un grande autore del Rinascimento, Piero della Francesca. E' una tempera su tavola, datata 1460, che è conservata nel Museo Civico della Città Natale di Piero della Francesca, Borgo Sansepolcro, in provincia di Arezzo. Come vediamo è molto diversa dall'immagine di Ascoli Satriano, che tipologicamente, l'abbiamo già detto, è una odegitria, cioè una madre che mostra Cristo come via verità e vita. La immagine classica, invece, della Madonna della Misericordia è proprio questa. La troviamo anche in alcune chiese rupestri, qui vicine a noi, in Puglia. Maria apre il suo mantello, sotto il quale raccoglie persone di diversa condizione. Troviamo un confratello incappucciato, un chierico, un nobile, un popolano, così come una monaca e delle nobildonne e delle popolane. Il mantello si apre quasi come un'enorme stanza, che accoglie sotto di sé persone di ogni condizione, come una cupola che protegge tutti quanti. Cito questa immagine facendo riferimento anche ad uno scritto del grande teologo, il cardinale Walter Kasper, che nel suo volume Misericordia scrive Secondo il diritto tedesco antico, i figli nati prima del matrimonio venivano dichiarati figli legittimi e figli mantellati attraverso un gesto, la sovrapposizione del manto. Ecco, l'immagine della Madonna della Misericordia fa proprio riferimento a questa usanza. I figli illegittimi, i figli di primo letto o di un altro matrimonio o di un'unione mai celebrata, vengono accolti come figli mantellati, con il gesto di chi li copre con il manto. Perciò questa rappresentazione dice anche, continua il cardinal Kasper, Tutti noi che siamo nati nel peccato siamo stati resi figli di Dio per mezzo della Misericordia di Dio, sul modello e sull'esempio di Maria. Ecco, davvero, qui Maria, Madre di Misericordia, accoglie tutti ed è immagine della Chiesa nella quale tutti quanti siamo. Siamo figli di Dio, con diverse vocazioni ma con la stessa dignità battesimale. Ho scelto questa immagine anche perché è stata inserita in un volume di alcuni anni fa di Michele Anis, un costituzionalista, e Vittorio Sgarbi, il celebre critico d'arte. Questo libro si chiama La Costituzione e la bellezza e Sgarbi mette questa immagine sacra a commento dell'articolo 3 della Costituzione italiana che recita in questo modo «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Quella uguaglianza assicurata e promossa dalla Costituzione trova nell'immagine della Madre della Misericordia colei che intercede e che è un modello «Tutti quanti siamo mantellati, tutti quanti siamo davvero figli di Dio, figli sotto lo sguardo di una stessa madre». Vorrei che ci accompagnasse durante tutta la giornata questa immagine di Maria Madre di Misericordia vorrei che tutti quanti ci sentissimo sotto il suo manto sentissero la sua protezione soprattutto le persone che si sentono emarginate e smarrite che sentono di non avere nessuna protezione in questo mondo devono certo lottare per i loro diritti ma ricordare sempre che il Signore ci accoglie e quel manto di Maria è garanzia di questa protezione, di questa accoglienza. Mentre contempliamo questa icona diciamo le nostre Dieci Ave Marie pensando al mistero della maternità di Maria Madre della Misericordia, Madre della Chiesa, di tutti noi e preghiamo in particolare per coloro che si sentono esclusi e per i governanti perché le loro reggi siano giuste, attente al bene comune in modo da non dover mai creare emarginazioni nella società. Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurra in tentazione ma liberaci dal male Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio, ora e sempre nei secoli dei secoli Amen O Gesù, perdona le nostre colpe preservaci dal fuoco dell'inferno porta in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della tua divina misericordia Maria, Madre di Misericordia prega per noi ci accompagni questa immagine questa invocazione per tutta la giornata preghiamo ora con le parole di Papa Francesco per questo mese mariano O Maria tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di speranza noi ci affidiamo a te salute dei malati che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù mantenendo ferma la tua fede tu salvezza del popolo romano sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai perché come a Cana di Galilea possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova aiutaci Madre del Divino Amore a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per condurci attraverso la croce alla gioia della risurrezione Amen sotto la tua protezione cerchiamo rifugio Santa Madre di Dio non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo o Vergine gloriosa e benedetta Il Signore sia con voi sia benedetto il nome del Signore il nostro aiuto è nel nome del Signore vi benedica Dio Onipotente Padre e Figlio e Spirito Santo la gioia del Signore è la nostra forza buona giornata a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti